Allora, innanzitutto grazie. I colleghi giornalisti convivono con gli amici militanti che stanno spulciando modulo per modulo le firme per il referendum perché si fa di necessità virtù e quindi si usano tutti gli spazi a disposizione. Grazie mille. 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 che non è un punto in più o in meno dell'IVA, un punto in più o meno dell'IRPEF o amenità di questo genere ma è una tassazione unica ridotta per tutti come sperimentato in altre realtà europee che hanno visto un aumento del gettito. Quindi una riduzione consistente dell'aliquota uguale per tutti, dal più ricco al più povero, per invogliare tutti a pagare le tasse e per punire bestialmente chi anche a fronte di un'aliquota unica che potrebbe essere del 25% continuerebbe ad evadere. Questo è uno dei temi su cui lavoreranno le assemblee provinciali e lavorerà il congresso federale, poi turismo, sovranità monetaria, disoccupazione, riforma del lavoro. Non lasciando in secondo piano le tematiche di battaglia europea, ovviamente continuando la nostra battaglia per liberarsi dalla gabbia dell'euro, settimana prossima ci sarà un'altra riunione del gruppo a Bruxelles, anzi settimana questa. Mercoledì questo c'è un'altra riunione di avvicinamento alla creazione del gruppo che ormai è, sono scaramantico, però ormai è prossimo a veder la luce. L'altra tematica che ovviamente non solo non abbandoneremo ma su cui acceleremo è quella della lotta all'immigrazione clandestina. Io domenica e lunedì sarò in Sicilia, continuo a chiamarci dalla Sicilia più che da ogni dove perché non ce la fanno più di fronte a quella che è una vera e propria invasione. E quindi nell'ottica del raccogliere la sfida della Lega che rimane Lega ma parla anche al centro e al sud, che non affrontiamo oggi ovviamente ma che ci accompagnerà da qui al congresso del 20 luglio, comunque torneremo là dove siamo stati in campagna elettorale. Quindi un consiglio federale assolutamente stimolante durante il quale sono intervenuti tutti quanti e che ha fissato una scadenza che fino a qualche settimana fa ovviamente non era neanche lontanamente ipotizzabile, però in questo mese e mezzo vediamo di discutere di contenuti e di provare a proporre a tutto il centro-destra le nostre ipotesi di uscita dalla crisi. E quindi ci mettiamo a disposizione di un centro-destra che queste elezioni dicono essere un po' tanto in difficoltà e quindi vediamo se come Lega riusciamo a contribuire alla ripartenza di tutta la coalizione. Lo chiarisco da subito senza ripensare neanche lontanamente alla riproposizione di minestroni passati, quindi non ci interessa la sommatoria di sigle Lega più Forza Italia più NCD più DC più Pippo, Pluto e Paperino. Ci interessa creare le basi per qualcosa di nuovo a partire dai progetti e dai programmi. E penso che il prossimo mese nonostante il caldo ci vedrà protagonisti da questo punto di vista. Non ci saranno cambi di congressi provinciali e nazionali evidentemente prima del 20 luglio perché va bene che i nostri militanti sono d'oro però non possiamo neanche farli morire di caldo a 42 gradi all'ombra, quindi già fare un congresso il 20 luglio per noi è una sfida, sono convinto che le vinceremo e di tutto il resto si parlerà dall'autunno in avanti. Ti chiedo perché siamo in diretta se puoi farle al microfono le domande. Per quanto riguarda lo statuto sono possibili altre modifiche per esempio vista anche l'ottica forse un po' più che riguarda anche al sud un'eliminazione dell'articolo 1 dello statuto o modifiche di questo tipo? No, arriva al congresso e esce dal congresso la Lega Nord per l'indipendenza della Padania che si propone di conseguire per metodi democratici l'indipendenza di quella che è la terra dove siamo nati e dove siamo cresciuti. Sicuramente io proporrò al congresso il fatto di ampliare i nostri orizzonti, rimanendo Lega Nord, quindi non rinnegando, non cancellando, non modificando, ma questa è una delle proposte che ho fatto oggi al Consiglio federale e su cui lavoreremo nel prossimo mese, ma ragionando di raggruppare alcuni contenitori, di fare da capofila di altre leghe che possano esprimere tutta la realtà e la vivacità che al centro e al sud abbiamo incontrato e riscontrato in queste settimane. Quindi la Lega Nord rimane Lega Nord, è chiaro che non posso fondare la Lega Nord Catania perché sarebbe un'evidente antinomia, però che la Lega Nord possa confederarsi, possa aiutare la nascita e la crescita di altri soggetti che ci diano una mano nella battaglia autonomista, federalista e indipendentista, assolutamente sì. Io volevo solo sapere se al congresso ci sarà un documento del segretario che sarà posto in votazione e poi volevo sapere, visto che Silvio Berlusconi continua a ripetere che la strada giusta è l'alleanza con la Lega, se c'è stata un'interlocuzione diretta tra il segretario della Lega e il capo di Forza Italia. Assolutamente il segretario porterà un suo documento al congresso federale da sottoporre al voto, ce ne saranno anche altri, mi auguro e immagino, non essendo onnisciente, però sicuramente ci sarà una linea politica che il congresso dovrà avallare, il discorso di eventuali ipotetiche future alleanze ovviamente sarà oggetto della discussione del congresso, io ho parlato ancora venerdiscorso con Silvio Berlusconi, però un conto è il sostegno di Forza Italia ad alcuni referendum proposti dalla Lega che ovviamente è un sostegno a cui diamo il benvenuto, altro paio di mani che lo dicevo è riempire di contenuti qualcosa che oggi non esiste, negli ultimi tre anni Lega e Forza Italia sono stati dalle parti opposte della barricata, da tutti i punti di vista in Italia e in Europa, al di là dei momenti amministrativi locali, e quindi è chiaro che non è ipotizzabile una riedizione di menestre riscaldate, se il centro-destra sulla base di nuovi contenuti, di nuova coerenza e anche di volti nuovi ha voglia di rimettersi in gioco, noi ci siamo, non ci interessano riedizioni a marcord del passato per intenderci, e il voto comunque dei ballottaggi e anche delle elezioni europee ci dice che o si ha la forza di cambiare, di fare un salto in avanti oppure il vecchio ha stufato, detto questo il vecchio c'è dappertutto, quindi non mi intrometto nei problemi di crescita di Forza Italia che sono sicuro riuscirà a fare quello che è riuscita a fare la Lega, ovvero sia a proseguire. Ma mi occupo della Lega, non sono in grado di dare consigli a Forza Italia, saranno loro ad esaminare i dati elettorali nel bene e nel male, e quindi gli auguro una buona riflessione, non mi permetto di dare consigli agli altri. Però hai citato questo sondaggio in cui tu saresti davanti a Berlusconi, quindi puoi dirci meglio che cosa significa questo anche in un'ottica di candidati di coalizione? Significa che il centrodestra è messo male, se è il più credibile è Salvini vuol dire che il centrodestra è messo assolutamente male, quindi ha bisogno di inventarsi qualcosa. Senti, parlavi prima di Padova, dei risultati in controtendenza, in Lombardia abbiamo visto che ormai tutti i capoluogo sono finiti al centro-sinistra, quindi questo che cosa impone? Come analizzi questo voto che in questi anni comunque ha scalzato i sindaci, anche quelli più in sella dai comuni, più grandi? Sì, un voto inaspettato soprattutto quello di Pavia, un dato di affluenza alle urne sconfortante, il ballottaggio è devastante, soprattutto se fatto a giugno con 45 gradi all'ombra e quindi anche ripensare a un sistema elettorale che lascia a casa la metà della gente a scuole chiuse e con clima tropicale, insomma molti sono mezzi sindaci, non sono sindaci, però detto questo chi non vota ha sempre torto e quindi c'è poco da star lì a ragionare, meglio, così la sinistra potrà mantenere tutte le mirabolanti promesse che ha fatto in campagna elettorale in tutti i comuni che andrà ad amministrare, io la prendo come uno stimolo anche per l'attività della giunta regionale, io so che a breve al di là delle assemblee provinciali del congresso federale, la Lega Lombarda ha già intenzione di convocare una riunione con tutti i consiglieri, gli assessori, il governatore, i segretari provinciali per fare il punto della situazione dopo un anno di giunta Maroni, penso che avere dei sindaci di colore opposto possa essere uno stimolo anche all'attività della giunta e della regione. Noi abbiamo riconfermato alcune amministrazioni uscenti, penso a Seriate, ne abbiamo conquistate alcune dove non c'eravamo, seppur in coalizione, penso che so a Pioltello piuttosto che ad Albino, è presto, fatemi guardare i numeri, il dato più eclatante è la bassa partecipazione al voto e quindi evidentemente non siamo abbastanza bravi da motivare e appassionare anche a livello amministrativo, è una colpa nostra, la sinistra è più brava a portare il voto, noi no, quindi questo ci deve far pensare. Tutti i partiti recentemente hanno dei problemi di finanziamenti, di fondi, qual è lo stato del bilancio della Lega come partito, ci sono dei problemi? Noi siamo nati con niente e quindi non ci spaventa niente, chiaro ed evidente che noi chiederemo trasparentemente, lecitamente, una mano a quei privati che saranno in grado di darcela, perché non facendo parte di certi sistemi di finanziamento parallelo, di cui le ultime inchieste Expo e Mose evidentemente recano traccia, non essendo noi interlocutori credibili per certi soggetti, evidentemente ne sono assolutamente fiero ed orgoglioso, e quindi quello che incassiamo, visto che il finanziamento pubblico si fa esaurire, e lo incassiamo grazie ai contributi dei militanti e dei soci, quindi penso che da qui a breve manceremo una campagna di trasparente e orgoglioso finanziamento di chi crede nelle battaglie della Lega, perché anche fare i referendum, cancellare la legge Fornero, il reato di immigrazione clandestina, sono tutti soldi che ovviamente ci mettiamo noi, e sono costi che non ci ripaga nessuno, e quindi ci rivolgeremo ai privati, visto che di imprenditori sensibili a queste tematiche ce ne sono, non avremo assolutamente vergogna, anzi chiederemo pubblicamente un contributo a chi se lo può permettere. Ricordando che col 2 per 1000 tutti anche nella dichiarazione dei redditi possono fare a costo zero una scelta a favore della Lega. Io ti chiedo semplicemente se dal tuo punto di vista Berlusconi è un minestrone del passato, dato che hai detto che vi mettete... No, non parlavo di singoli, parlavo di sommatoria di sigle, di cose contro, di rifacciamo l'alleanza, il vecchio centrodestra, la casa delle libertà, no. Il passato è passato, non do un giudizio sui singoli, quindi né su Berlusconi né su nessun altro. Dico solo che politicamente noi non ci mettiamo neanche lì a perdere 10 secondi a ragionare di minestre riscaldate o di frittate rimpastate, quindi se c'è qualcosa deve essere qualcosa di nuovo, con progetti nuovi, con programmi nuovi e possibilmente con persone nuove. Fa un caldo della Madonna. Quindi se non ci sono altre domande è stato bellissimo stare in vostra compagnia. Esprimo il mio benvenuto al nuovo allenatore del Milan, Pippo Inzaghi, che finalmente ci riporterà a nuova gloria. Avevo chiesto a Berlusconi nel nome dell'accordo un allenatore padano e ci ha accontentato. Abbiamo anche un portiere bergamasco che è a Gazzi, quindi l'accordo riparte da una padanizzazione del Milan. Centrale Antibresciano potrebbe essere ceduto senza rimpianti. Grazie. Grazie.